Noi abbiamo bisogno di persone così, non solo nelle situazioni, ma anche nelle situazioni nella magistratura, nelle forze dell'ordine, ma soprattutto fra il popolo. Noi abbiamo bisogno di persone che si mobilitino, di persone che ci aiutino, oltre che a lavorare all'interno delle istituzioni, a fare questa benedetta rivoluzione culturale di cui l'Italia ha bisogno, perché guardate che ormai è diventata la prassi il fatto che la convenienza personale divenga poi prioritaria per molte persone che lavorano nelle istituzioni rispetto al bene comune, ma la funzione principale della politica è quella di promuovere il bene di tutti, il bene collettivo, questa è la funzione della politica ed è stata persa completamente di vista. Noi in Italia non sappiamo più cosa deve essere la politica e sembra che la politica sia soltanto l'accaparrarsi, una poltrona e il perseguire in maniera compulsiva il potere e l'arricchimento personale. A noi tutto questo ci fa schifo! Alessio Vaini, molto piacere, molto piacere di vederci qua!